Io sono uno Sky dipendente. Il canale preferito è le notizie 24 ore su 24. È l'idea che si possa sapere tutto, di tutto, in qualunque ora del giorno e della notte. Quando poi tu devi non solo sapere, ma vedere le cose, noi ci colleghiamo a Sky. C'è proprio un'abitudine a sintonizzarsi. Lo stadio è, da un certo punto di vista, direi anche purtroppo, definitivamente uscito dalla mia vita. Il calcio, l'olimpiadi, lo sport, le cose più belle le ho viste tutte attraverso Sky. Forse il ricordo più bello è un pomeriggio di domenica nella mia casa di campagna, accendere la televisione e vedere la cenerentola di Rossini. Classica, la rete di musica classica che mi sembra veramente un gioiello. L'augurio che faccio a Sky è ovviamente lunga vita, più abbonati e altri dieci anni di grandi successi. Grazie a tutti.